I carabinieri di Castiglionfibocchi hanno eseguito un ordine di carcerazione messo dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Minorenni di Bologna nei confronti di un ventenne di origini romene residente ad Arezzo. Il ragazzo è stato condannato per avere costretto una dodicenne conosciuta attraverso un social network ad inviargli foto delle sue parti intime minacciandola di diffondere i suoi dati personali. Una volta ricevute le prime fotografie il giovane ha alzato il tiro, pretendeva l'invio di altre foto altrimenti avrebbe pubblicato sul web quelle intime già ricevute. La vicenda era cominciata nel 2015 ed è andata avanti per mesi finché la ragazza non ha deciso di confidarsi con la madre che si è rivolta ai carabinieri. Una mirata attività investigativa condotta dai carabinieri di Castiglionfibocchi ha consentito di rinvenire messaggi, le foto all'interno delle memorie dei dispositivi informatici in possesso del giovane e così i carabinieri sono riusciti a individuare l'autore di questi ricatti e a denunciarlo identificandolo in questo ragazzo di 20 anni di origini romene. Dovrà ora scontare una pena di 4 anni e 6 mesi per i creati di tentata violenza sessuale aggravata e pornografia minorile aggravata. Il giovane si trova adesso rinchiuso nella casa circondariale di Firenze.